Ok, bene gente, eccoci qua ad un nuovo video Oggi siamo qua con un episodio un attimino speciale Non proprio un episodio ma un video speciale Difatti oggi ci sarà, come avete letto dal titolo La compilation della serie che è 2 Bala Time Perché vi ricordo comunque ci sono state altre serie con Bala Niente, questa serie io la porto nel cuore Perché oltre ad aver fatto un attimino successo Oltre appunto avendola fatta con Bala Perché alla fine, cioè, potevo farla con chiunque Altra persona molto più famosa Ma io ho sempre preferito Bala perché Bala Niente, vi lascio questa compilation Spero che il video vi piaccia E chissà, magari ci sarà anche un ritorno di un'altra serie con il signor Bala Voi fatemelo sapere nei commenti Andremo verso terre lontane Con giochi cani, fila avventuriero Ci divertiremo It's adventure time Multiplayer Io non sono Lord Creeper Mi sa che me ne siete accorti Direi che Che sono qui Sono qui Ecco Non è morto Dove dire io bene gente Eccoci qua a Minecraft Oggi sono insieme a questo esemplare di Pedobear Chiamata anche Ieki Buongiorno E oggi cominciamo in due al commentare Bella coenamba Oh, sono sul canale di Lord Creeper Non c'è ancora una mucca Siamo con la mucca Cioè sì, alla fine siamo ritornati insieme Un triplo commentary Qui c'è tipo una caverna Un pipistre Un popostrello Un pipisello Un popo Quello di Dragon Ball Un popo Un popo Un popo americano di Dragon Ball Che sei quel coso azzurro? Uno zombie Azzurro Ah Ma che cazzo Oh, che cazzo di paura? Cosa? È andato a fuoco Ha raggato di me Mi sei scaramentato addosso Beh, c'ho 24 pe... Ma dove cazzo sei? Sono qua Andiamo anche la croftongue Anche un mio amico diceva Sono qua Era un anaco Dai Cazzo cazzo c'è Ah Ah Si Si spacca, eh Si rotta? Vedo qualcosa Si Vedevo Si è rotta la co... Merda, uno squid Deo freno Dice un nato Sì, sì Terra Terra? Terra Vedo un coso fallico Oh mio Dio, vedo un pene Ovviamente sono andolini Eh beh, va Che diceva Eh no, questa suonava male È abbastanza male Tipo, ma la vedi anche tu la U? La U, la La U? La U? La U? La U? La U? La Wii U? Wii U? La Wii U? Si dice Attenzione, l'Xbox One si è fatta male Wii U, Wii U, Wii U Eh? Madonna, non l'hai detto davvero Ma la U? Ma non c'è un albero È bellissimo Ma non c'è un albero Ah c'è Dove c'è la U c'è l'albero Un albero Dovremo Vivere con un albero Ok, quella è Ked Davvero? Basta, finito il video Ciao Il video era Una ciraffa Ma che minchia dici? Ma la, una ciraffa Di lontananza Vedi una ciraffa È un mostro di Loch Ness No, per che cazzo ho fatto? È una ciraffa, incredibile Vivremo lì noi Nelle ciraffe Io direi di farci sotto questo coso Che poi sai cosa possiamo fare? Aspetta, aspetta, lo dico io Sotto, lo facciamo sotto una montagna Così poi andremo sopra e ci lanciamo l'acqua Così avremo una casa subacquea Cioè ti butti nel tetto tipo? Cioè no, noi la facciamo tipo qua sotto Poi andiamo là sopra e buttiamo l'acqua Così avremo una casa sommersa Mamma mia Le idee stupide dell'architetto Lord Creeper 96 Però mi piace Voglio un po' di mucca esplosa Ho visto che è decollato? Eh sì, mi... Cos'è stato? Cosa? Oddio, non sono microscopico Ma te l'ho detto, te l'ho detto Prima mi avevo chiamato È velocissimo Oddio Ma è bellissimo Ci puoi fare la casa quassù Guarda la pecora Sopra di noi Hai visto la pecora sopra di noi? Dai Mi tiro il piccone aspetta Oh che bello Cioè noi ci vogliamo Balla nel tramonto È bellissimo Balla sei bellissimo Wow Sono emozionato Sto venendo Mi verso l'acqua addosso perché sono troppo eccitato Buttati a letto No, no, fermo Fermo Oh, io non posso dormire però Non voglio girarmi Oh, oh, oh Occhi di ragno I, 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 i Imbecilli Vabbè, non te lo ridotto Oh, creeper, creeper, creeper Lagoso Che poi, nei scorsi episodi Ero io che saltavano in area con i creeper Perché? È pure fertilizzato Infatti, perché? C'è anche un enderman L'ha portato lui Mi sa, gira qui È vero Ehi, com'è? No, non fa Fai botani Ehm Che farò Potevi dirmelo? Eh, ti è caduto dietro, giuro Ok, grazie Tre pezzi di ferro No, di merda Sono Gianni Morandi Mmm Fammi mangiare la tua merda Effetto, un'autocombuzione Eh In realtà è un processo di super saianesimo Super saianesimo Una redigione Certo No, no, no Ma sei girata Ma sei girata Ma non era così prima Ma sei girata la giraffa Ma Aspetta, c'è un problema Sei girata davvero Sì, non era così Scusate, la testa era dall'altra parte Ciao, ciao Ciao Cioè, e io Ecco Ha deciso di passare È un'idiotta, è un carotene È più scemo di te Grazie Bussano Da meno a te No Corco di assi Merda cosa Mi nascondo Ma la cosa C'è C'è Perché mi ricordo l'Other Planet Guarda, c'è un creeper qua Ah, ma non ce l'ha con me Ce l'ha con me Oh Bala Non scendere Non scendere Bala Che cazzo Ma che Scusa No, bala 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 Eh Eeeh Oh Here comes the money Here we go Money talk Here comes the money 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 Mi sentito down Eh, ho finito i diamanti Prendo la l'OI così Perché sei sotto te Ma sei un Tremors Un cosa? Un gremlin Un gremlin Un pokèmon Sì, sono digle Basta così I grettiti, che schifo, i pezzi di merda. No, 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 poi arriva Gianni Morandi. Gianni Morandi mangia di glute. Perché ce l'abbiamo dato con Gianni Morandi in questo episodio? Ho i sensi di colpa, perché la gente mi dice devi salvatare il mio nome, non quello! E io ci dormo la notte. E tu non lo saluti. Le pecore strabiche. C'è un pollo intrappolato. Balla, l'aiutiamo. C'è un pollo volante. Dove? Guardalo. Mi hai rubato l'idea. Ma un pollo super saiyan. C'è l'hai fatto partorire. Il pollino. Ma? Il pollino. Allora. Se io torno a casa, c'è la casa distrutta. No, non c'è la casa distrutta. Scherzi. Io faccio slash, ban, ok. No, ma sarà... Non posso. Ma questo no. Non posso dire i lagni. Sì. Sono qua. Ma che cazzo è successo? Non è distrutta. Perché c'è la porta? Non è distrutta. Perché c'è la porta qui così? Perché non è distrutta? Era così quando siamo partiti, no? Viene soffocato. Non lo so. C'è un coglione. Mi viene scritto che è un coglione. Sappia, 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 sappia. Mi è passato attraverso. Karma. Karma. Ma... Ma merda, sono in mezzo all'oceano. Io non lo so dove sono. Dimmi che anche io non sono in mezzo all'oceano. Mi metto a piangere. Sono in mezzo... Non sono in mezzo all'oceano. Non sono in mezzo all'oceano. Non sono in mezzo... Un maiale. Quindi, spadi diamante a palino. Non riesco a prendere. E... Piccone di... Non dirmi che hai fatto qualcosa di sbagliato. No, no. Kedu. Kedu, dove vai? Kedu, cosa fai? Kedu, cosa hai in mano? Kedu, hai fatto un... Una zappa di diamante. Kedu. 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 Hai fatto una zappa di diamante. Hai fatto una zappa di diamante. Ciao a tutti. Sì. Ma perché ti sei buttato giù? Devi buttarti dall'altra parte. Ce l'aveva contato. Ah, passato. Ah, così. Tranqui. Tranqui, bro. Potevi semplicemente. Porca troia! Porca troia! Ti sei bruciato tutto. E io... Hai perso tutto. Non avevi i diamanti con te, vero? Abbiamo avuto diamanti oltre quelli lì? No. Non si, no? No! No! Sì! È morto! Ragazzi, stasera party hard. Bala è morto. Dopo nove fototissimi episodi. Bala è morto. Questo è un 32 di vento. Bala è morto. È a posto, dai. È a posto? Posso venire a vedere? Sì. Non la devo piano. No, no, è a posto. Cacca. A parte quello del blocco di legno che prende a fuoco, bro. Sì. Cioè, anche se lo guardi da lontano, dici... Cazzo. Cosa cazzo è? Cosa mi significa? La pecora? Bala, c'è quella pecora. Questa pecora è qui da non so quanti giorni. È la prima pecora. Hai presente la pecora marrone che tipo è bloccata nella sabbia? Vicino all'acqua. È sempre stata lì. Bua, bua. Ciao, c'è Edu. Comunque ho iniziato. Che cazzo ti paura? E allora? Eh, io sono sul letto bugato. Arrivo, baleno. Rimai a letto. Ho sentito una porta aprirsi, un'altra. È bello che ho il mirino del coso. Puoi metterti a letto che mi fiede con quel sorriso. Ma una volta ce l'avevi storto, il sorriso. Cretino! Ho la zappa in mano. Comunque nei tuoi pantaloni c'è qualcosa di satanico, un capretto. Dove sei finito? Capretto sacrificato. Allora. L'uovo in mezzo. Le prime tre sono latti. Ah, ok. Ho capito. Ho capito. Sì, ci ho occhiato, vabbè. Poi. Ho capito! Se mi viene... Tiritutut. Che bello. Epico tempo di mangiare. Oh, la prima fetta l'ho tagliato io. E comunque. Abbiamo fatto una torta mangiata. Che bella dentro. Puoi vedere? Che poi, scusa, allora, c'è uovo, farina, grano e latte. Perché c'è il cioccolato e le fragoline, insomma? Ma che cazzo è? Il cioccolato ce l'ho aggiunto io, ma non era cioccolato. La baracca. Ma perché? Abbiamo già la nostra baracca con la lava in testa. Eh. È bellissima la nostra baracchina. Ti piace? È una sedia gigante. Ti piace? Merda. Ma sono catena! Ma sono... Ma sono... Ma devi morire, è proprio esploso, ma proprio in fiamme. Non so. No! Addio, mondo crudele. Balla. Non voglio sentire... non voglio schiacciare rinasci non voglio schiacciare non lo schiaccio bala che bella casa accogliente episodio è successo una cosa se avete visto che bella casa calorosa bala bala tu non sai chi c'è ancora qua che levita sull'acqua a parte gesù vabbè non scoppia nell'acqua no ma non è un creeper è peggio di un creeper la pecora marrone non dirmi che è marrone davvero è sempre lì è lì che ci aspetta ti giuro vieni nel laghetto che è sempre davanti a me guarda una puttana c'è una troia di merda guarda c'è l'operazione ninja di bala non posso bala guarda non mi fa scendere a buttana troia puttana troia è morto no! no! non vuoi morire di nuovo aaaaaaaaaaah! Non mi piace questo suono Non mi piace Oh no Oh no Oh no Non ci siamo visti noi E' andato a fuoco Caldo E' andato a fuoco